A seconda della versione, la nuova Megane è dotata di un regolatore di velocità autoadattativo che è possibile attivare tramite il pulsante sulla console centrale. Una spia verde si accende e viene visualizzato il messaggio Regolatore di velocità sul quadro della strumentazione per indicare che la funzione è attiva. Il regolatore di velocità autoadattativo consente di mantenere la velocità scelta e una distanza di sicurezza dal veicolo antistante sulla stessa corsia. Consente inoltre di frenare il veicolo fino a un terzo della capacità frenante, quindi a seconda della situazione, il conducente può incrementare la frenata. È possibile modificare la velocità di riferimento tramite i comandi al volante. Grazie. 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 Grazie.